Dopo l'ennesima brutta prestazione, quella contro il Milan di stasera all'Olimpico, è il caso di porci questa domanda. Roma, che succede? Per la verità noi questa domanda ce la siamo posta da tempo, nonostante gli amici del web ci abbiano criticato e anche duramente. Ma c'è poco da aggiungere, c'è poco da dire, questa squadra è involuta da dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-2 a Torino, cioè da quando Garzia ha detto la Roma vincerà lo scudetto. Poi c'è stata subito dopo l'ammazzata interna con il Bayern, l'1-7 che ancora la squadra si porta nella testa, oltre che nelle gambe perché la compagine giallorossa è apparsa anche stanca. E poi questo gioco sterile, stucchevole, mai una finalizzazione concreta negli ultimi tempi come si deve, tanti cross dalla destra e dalla sinistra, ma ci chiediamo anche, ma per chi questi cross? Se la Roma non ha un attaccante forte di testa, ecco la nota dolente, l'attaccante alla Roma manca il bomber vero, il bomber che ti sblocca la partita, che ti cambia la partita, che ti fa la svolta, ti dà la svolta quando hai difficoltà a scardinare difese o squadre che si mettono bene in campo, come ha fatto stasera il Milan di Inzaghi. E la Roma non è riuscita ad avere ragione di un mediocre, tutto sommato Milan, nemmeno in 11 contro 10, neanche dopo l'espulsione di Armero. Credo che ci sia più di un campanello di allarme per Rudy Garcia, auguriamoci che la sosta per le festività natalizie più che la notte porti consiglio, e auguriamoci che alla ripresa possiamo magari rivedere quella bella Roma di una volta, quella Roma spumeggiante, con furore agonistico in campo, con triangolazioni, velocità. Dove è finita quella Roma? Garcia, che fine ha fatto quella squadra che secondo lei avrebbe dovuto o secondo lei comunque vincerà lo Scudetto? È pregato di riportarla al centro delle cronache sportive. Grazie.